Ciao a tutti ragazzi! Allora su numero 91 ho portato questo me la regalato la mia mamma mia mamma mi regala le cose mia mamma mi tratta male ma mi regala le cose questa volevo... no no questa non mi la la visca e la presa mi piaceva il po' non quindi la presa beh queste cosa ho da dire meraviglioso guarda che bello c'è pure l'imla la la mamma tutto così no ho messo shhh dopo lo butto in qualche modo allora la prima ho questo che è un'immaginettina di un po' che si chiama Arcus Arcus scusate porca miseria mamma mia che brutto allora no ragazzi è successo che mi cascavo tutte le mie cose eccoci qua eccoci qua ragazzi l'ha messo malissimo intanto vediamo se riesco magari dopo un attimo con un cestino qualcosa di che così è meglio ho sbagliato ho sbagliato ho fatto una roba che non dovevo aprire vabbè il prossimo pacchetto questa vedevo che va molto di là è molto tranquillo che Monica sta vedendo la televisione papà è lì che sta parlando con lo zio quindi ci impiegherà ben due ore e quindi niente io posso stare tranquilla a fare questo lavoro senza essere interrottata o sgridata questo qui è l'altro pacchetto questo è il primo pacchetto e questo è il secondo pacchetto cioè praticamente io posso starmi neanche molto si credo voglio urlare ma non posso urlare perchè siamo anche di là magari dopo riesco con calma a andare giù a buttar via la roba cosa almeno io non ho niente da sospettare perchè tanto questo è da mettere a posto si deve mettere tutto a posto anche l'album no l'album lo zaino rimasti tutti in uno zaino perchè insomma non ho l'album perchè siccome io c'è gioco e quindi non ho l'album bella qui bello il packaging però di queste carte mmm trollata ma niente io intanto se il papà monica è il tira che guarda la televisione papà sta parlando con lo zaino ciano e parla per due ore minimo che riesco anche a far questo così se si scarica del tutto raga posso scaricarlo del tutto senza aspettare domani dopo domani cos'è l'ultimo sì ci sono pochi pacchetti pronto va bene i cavoli e poi invece il diastro vuol dire che è cartibuone se non vorrei che venisse qui hai capito la monica e poi l'ultima carta importante è questa noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao